Cari spettatori. Benvenuti sul nostro canale YouTube. Oggi entriamo nel mondo intrigante di Belen Rodriguez e delle sue storie social che hanno scatenato curiosità e domande. La showgirl argentina ha recentemente lanciato una frecciatina attraverso le sue storie su Instagram. E ovviamente. Siamo qui per analizzare ogni dettaglio. Belen ha immortalato il famoso dito medio di Cattelanna a Piazza degli Affari. Facendo seguire un messaggio esplicito. A chi non merita il mio tempo. Ma la grande incognita rimane. A chi è indirizzata questa frecciatina tagliente? Dopo una romantica vacanza con Elio Lorenzoni. Il suo attuale fidanzato ufficiale. Sembrerebbe che il dito medio non sia diretto verso di lui. O forse sì. La recente storia di Belen scatena molte domande sulla sua vita sentimentale. Specialmente dopo la difficile rottura con Stefano De Martino. Le voci di un possibile tradimento circolano ancora. E questa potrebbe essere la dichiarazione di Belen per chiudere definitivamente il capitolo del passato. Confermate fonti riportano che Belen abbia sofferto molto dopo la fine della sua relazione con De Martino. La domanda ora è. La frecciatina è un modo per esprimere la sua delusione o un chiaro segnale di chiudere definitivamente il capitolo precedente? Rimanete con noi mentre esploriamo le sfumature di questo misterioso messaggio. E non dimenticate di condividere le vostre teorie nei commenti qui sotto. Se siete nuovi qui. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Grazie per essere con noi oggi. E ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi ora!